Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi racconta una tragica storia in cui il desiderio di libertà e l'incapacità di accettare i confini imposti dalla famiglia hanno portato a scelte devastanti. In un intreccio di amore, perdono, inganno e manipolazione, le vite di molte persone sono state cambiate per sempre. Ma cosa significa davvero essere liberi? E quanto è difficile perdonare chi ha tradito la tua fiducia portandoti via tutto ciò che avevi di più caro? Ci troviamo in Texas. È qui che vive la famiglia Caffey, composta da Penny e Terry e dai loro figli, Erin Michelle, Matthew Ryan e Tyler Paul. Penny e Terry si incontrarono per la prima volta durante un revival meeting a Garland in Texas quando Penny ha 21 anni e Terry ne ha 24. Un revival meeting è un incontro o una serie di incontri guidati da un predicatore per far interessare nuove persone alla religione cristiana e per rinvigorire la fede dei partecipanti che già seguono questo credo. La loro comune devozione religiosa unisce Penny e Terry portandoli a costruire una famiglia insieme. La coppia è molto emozionata quando Penny dà la luce Erin Michelle nel luglio del 1991. Tre anni dopo nasce Matthew Ryan e cinque anni dopo danno il benvenuto al loro terzo e ultimo figlio Tyler Paul. La famiglia Caffey è molto unita, conservatrice e religiosa. Terry ha sempre aspirato a far parte del ministero della chiesa e questo sogno li conduce a stabilirsi nella piccola comunità di Alba in Texas. Sia Penny che Terry trovano lavoro alla Miracle Fate, una chiesa battista di Emory che si trova a circa 16 chilometri da Alba. Terry fa il pastore giovanile e Penny si unisce al ministero della chiesa suonando il pianoforte. Tyler e Matthew suonano la chitarra e l'armonica mentre Erin dotata di una voce straordinaria canta. La sua voce è amata da tutti tanto che alcuni amici di famiglia conosciuti tramite la chiesa esprimono il desiderio che sia lei a cantare i loro funerali quando verranno a mancare. Quando Erin ha 13 anni un episodio imprevisto scuote la tranquillità della famiglia. Una compagna di scuola manifesta un interesse amoroso nei suoi confronti e la bacia all'improvviso. Quando i suoi genitori lo scoprono non ne sono affatto contenti, anzi sono scioccati dalla cultura della bisessualità e decidono di ritirare i loro figli dalla scuola pubblica. Da quel momento in poi della loro istruzione se ne occupa Penny che li educa a casa utilizzando un programma basato sulla Bibbia. Erin in particolare affronta alcune difficoltà di apprendimento, le è stata diagnosticata l'ADHD. I genitori credono che un'attenzione individuale possa essere benefica per lei permettendole di seguire il percorso scolastico con maggiore facilità. Tuttavia dal punto di vista sociale la situazione non è ideale. Erin è una ragazza molto timida e le sue uniche occasioni di socializzazione si limitano alle visite in chiesa. Nonostante queste sfide Erin cresce in una famiglia amorevole e unita. I genitori e i fratelli le vogliono molto bene e la sostengono in ogni circostanza. Erin è una ragazza minuta con capelli biondi, occhi grigio azzurri e un sorriso splendido che naturalmente cattura l'attenzione di molti ragazzi. Questi ragazzi spesso iniziano a frequentare la sua chiesa solo per avere l'opportunità di incontrarla ma Erin non è interessata loro perché ha già posato gli occhi su qualcun altro, Charlie Wilkinson, un ragazzo che in realtà non frequenta nemmeno la sua chiesa. Ma quindi come si sono conosciuti Erin e Charlie? Facciamo un piccolo passo indietro per scoprirlo. Nel luglio del 2007, quando Erin compie 16 anni, i suoi genitori le concedono un po' più di libertà. L'adolescente prende la patente, acquista un vecchio furgoncino e trova un lavoro part-time in un fast food chiamato Sonic. I suoi colleghi raccontano che Erin adora flirtare con i clienti e una delle persone che inizia ad apprezzare particolarmente non solo gli hamburger e le granite di questo fast food ma anche la cameriera che le serve è proprio Charlie Wilkinson. Dal momento in cui Erin gli si avvicina per la prima volta per prendere il suo ordine, Charlie sente una connessione immediata con lei. Charlie è appena tornato a casa dopo aver completato il campo di addestramento della Guardia Nazionale del Texas e progetta ad iniziare il servizio attivo dopo l'ultimo anno di liceo. Nel tempo libero si dedica principalmente alla caccia e alla pesca. I suoi genitori sono divorziati e lui vive con il padre, la matrigna e il fratellastro. Nonostante non si sia mai cacciato nei guai, chi lo conosce lo descrive come un tipo irrascibile e facilmente provocabile. Dopo il loro primo incontro Charlie torna spesso al fast food Sonic per rivedere Erin. Poco dopo Halloween il ragazzo trova il coraggio di chiederle di uscire. Erin è entusiasta, accetta l'invito con gioia, anche a lei Charlie piace molto e in breve tempo i due si innamorano follemente l'uno dell'altra. Per Charlie Erin è la sua anima gemella e la ragazza sa come sfruttare questa devozione, convincendolo a fare tutto ciò che desidera. Quando la loro relazione diventa seria, la famiglia di Erin chiede di poter conoscere Charlie. In particolare Terry, il padre di Erin, insiste per incontrarlo il prima possibile, desideroso di conoscere il giovane che esce con la sua unica figlia. Ma in realtà l'incontro non va come dovrebbe. Quel giorno Terry rientra al lavoro e trova i suoi figli nel soggiorno insieme a Charlie, che è seduto su una poltrona reclinabile con le gambe di lato a Penzoloni. Ciò che infastidisce maggiormente Terry è il fatto che Charlie, quando lui è entrato in casa, non si è neanche alzato per presentarsi. Questo comportamento gli sembra estremamente irrispettoso. Se Charlie non si degna nemmeno di alzarsi dalla poltrona per un saluto e si atteggia in modo così sfacciato, come può trattare Erin con rispetto? La situazione è peggiore ulteriormente quando Terry gli si avvicina e gli dice «Ehi, tu devi essere Charlie», porgendogli la mano. E Charlie, invece di rispondere cortesemente, guarda la mano tesa di Terry e ribatte «Sì, e tu sei?». Terry è irritato dal comportamento di Charlie, ma alla fine concorda con sua moglie Penny che i due ragazzi possono continuare a vedersi, a patto che rispettino le regole della famiglia. Le condizioni sono che Charlie ed Erin possono uscire insieme ma non devono mai rimanere da soli. Così Charlie inizia a passare molto tempo a casa di Erin, ma deve andarsene tassativamente alle 21, l'orario del coprifuoco. I due possono parlare al telefono fino alle 22 nei giorni settimanali e fino alle 23 nei weekend. Per trascorrere più tempo con Erin, Charlie inizia addirittura a frequentare la chiesa e tutti lo trovano un tipo simpatico e tranquillo. Nel dicembre del 2007 Erin chiede ai genitori di poter tornare a frequentare la scuola pubblica, dato che i suoi fratelli minori avevano ricominciato a frequentarla all'inizio di quell'autunno. I suoi genitori trovano che sia una buona idea in questo modo Penny può tornare a lavorare per contribuire al bilancio familiare e quindi permettono a Erin di tornare a scuola. Ora Charlie ed Erin possono vedersi ancora più spesso e trascorrere più tempo insieme. Frequentando lo stesso liceo hanno più occasioni per stare da soli, senza la costante sorveglianza dei genitori di Erin. Ora i due ragazzi si incontrano tra una lezione e l'altra, pranzano assieme, camminano mano nella mano lungo i corridoi della scuola e, di tanto in tanto, saltano qualche lezione e se ne vanno di nascosto da qualche parte a sbaciucchiarsi. Non solo, ora la sera possono anche uscire insieme, ma Erin deve essere a casa tassativamente per le 21 e 30. La coppia ogni tanto comincia a frequentare la casa di alcuni amici, ma spesso rimangono da soli, iniziando anche ad avere rapporti intimi, cosa di cui ovviamente Terry e Penny non sono a conoscenza e che sicuramente non approverebbero. Nonostante questo, tutto sembra andare per il meglio, non ci sono strani segnali preoccupanti o campanelli d'allarme. Una notte, mentre Charlie sta guidando su una strada di campagna con Erin, improvvisamente ferma il furgoncino. La fa scendere dalla macchina, si inginocchia e le purge l'anello di fidanzamento di sua nonna, spiegandole che quell'anello rappresenta una promessa. Non le sta proponendo di sposarlo a breve, ma vuole farle sapere quali sono le sue intenzioni. Erin è felicissima e inizia a mostrare l'anello a tutti quelli che conosce. Le voci, come spesso accade, si diffondono rapidamente e presto anche Penny, la madre di Erin, viene a sapere di questo regalo. Curiosa e anche un po' preoccupata, Penny chiede a Erin di vedere l'anello e quando Erin glielo mostra, la madre le dice che non è ancora pronta per un impegno del genere. Le spiega, che è troppo giovane e che sarebbe meglio restituire l'anello a Charlie. Anche Terry, il padre, quando viene a scoprire la situazione, non è affatto felice. Terry decide di affrontare la questione di petto e, approfittando di un momento in cui sono in chiesa, avvicina Charlie per dirgli che il regalo che ha fatto a sua figlia è inappropriato, dato che Erin ha solo 16 anni. La famiglia di Erin ritiene che i ragazzi stiano affrettando un po' troppo le cose e che stiano trascorrendo troppo tempo insieme. Così, un giorno, Terry e Penny parlano con la giovane coppia. Gli dicono che è bello che si amino e che stiano insieme, ma che devono rallentare un po' le cose. Si vedono tutti i giorni a scuola e poi si incontrano anche in chiesa, quindi secondo loro hanno bisogno di riprendersi i propri spazi. Terry e Penny decidono così di limitare gli incontri della coppia dopo scuola. Da quel momento in poi Charlie sarebbe potuto andare a trovare Erin a casa solo una volta a settimana. Al momento i due ragazzi sembrano accettare la decisione, ma, stando a ciò che dicono le fonti, in realtà non sono affatto tranquilli. Anzi, sono parecchio turbati, in particolar modo Erin. Certamente non è felice di passare meno tempo con Charlie e questo la porta a litigare sempre più spesso con i suoi genitori. Erin comincia a confidarsi e a lamentarsi con sua zia, dicendole che al compimento dei 17 anni sarebbe scappata di casa per andare a vivere con Charlie. I litigi aumentano giorno dopo giorno e, anche se scoppiano per motivazioni che non hanno nulla a che vedere con Charlie, alla fine Erin va sempre a parare su quell'argomento. Una notte la ragazza riesce a prendere il cellulare di nascosto e lo porta in camera per utilizzarlo dopo il coprifuoco. Chiama Charlie e iniziano a parlare, ma i suoi genitori la scoprono. Decidono quindi di metterla in punizione requisendole il telefono e vietandole di usare la sua macchina. Per intere settimane sono loro ad accompagnarla a scuola e a riportarla a casa, impedendole di vedere Charlie al di fuori delle ore scolastiche. Charlie non può più andare a casa sua e i due non possono più uscire insieme. È a questo punto che il rapporto tra Erin e i suoi genitori subisce un drastico cambiamento e anche la ragazza stessa sembra cambiare molto. Non è più la ragazzina frizzante di un tempo, è triste e smette anche di interessarsi al suo aspetto, cosa insolita per lei che è sempre stata molto femminile. Appare distratta e disinteressata da tutto ciò che la circonda e continua a litigare costantemente con i suoi genitori e l'argomento è sempre lo stesso, vuole tornare a vedere Charlie come prima. La situazione è peggiora ulteriormente quando Erin chiama Charlie e gli racconta che sua madre durante l'ennesimo litigio l'ha schiaffeggiata. Questa faccenda inizia a gravare pesantemente sulla famiglia Caffi e le persone intorno a loro iniziano a notarlo. Anche Penny appare molto distratta e la gente inizia a murmurare. Avrebbe voluto partecipare a un ritiro con alcune sue amiche che frequentano la chiesa come lei, ma alla fine rinuncia a questo viaggio per rimanere a casa con la sua famiglia. Terry è davvero preoccupato perché nota che sua figlia sta cambiando rapidamente e in maniera profonda. Alla fine di gennaio il padre di Terry viene a mancare, quindi l'uomo decide di prendersi una piccola pausa dal lavoro. Arriviamo al 27 febbraio del 2008. Penny e sua sorella si sentono al telefono, ma nessuno immagina ancora quanto la situazione stia per precipitare. La famiglia Caffi non ha internet a casa, quindi per poter navigare in rete devono per forza recarsi in biblioteca oppure a casa della sorella di Penny, la zia di Erin, che ha sia internet che un computer. Un giorno Erin si trova a casa di sua zia e usa il computer per accedere alla pagina MySpace di Charlie. Distrattamente però dimentica di effettuare il logout. Quando la zia di Erin se ne accorge, sapendo che Penny e Terry nutrono dei sospetti nei confronti di questo ragazzo, decide di dare una sbirciatina al profilo di Charlie per vedere cosa pubblica. Quello che leggi la lascia sconcertata. Ci sono post che parlano di alcol e sesso, oltre a dei messaggi privati di alcuni suoi amici che gli suggeriscono di portare la sua ragazza stronzetta da loro per la serata. La zia di Erin trova tutto questo inaccettabile. Senza esitazione chiama Penny e Terry per informarli di ciò che ha scoperto. Terry, furiosa dopo essere venuta a conoscenza di questi post, chiama Terry al lavoro chiedendogli di tornare a casa immediatamente per discutere di una questione urgente. Terry, già sotto pressione per il lavoro arretrato accumulato durante il periodo in cui è stato a casa per la morte di suo padre, cerca di spiegare che non può assentarsi, ma Penny insiste. Gli dice che capisce perfettamente che è in difficoltà, ma deve tornare a casa perché questa faccenda non può aspettare. Terry, pur riluttante, torna a casa e quando gli vengono letti questi post su MySpace la sua rabbia esplode. Per lui e Peggy quei contenuti sono inaccettabili e a questo punto la loro decisione è irrevocabile. Non vogliono che Erin frequenti persone del genere e soprattutto non vogliono che continui la sua relazione con Charlie. Sono arrivati al limite. Quando Erin torna a casa da scuola quel giorno, Penny e Terry le comunicano che deve porre fine alla sua relazione con Charlie. Le dicono chiaramente che questa non è una decisione negoziabile. Quando avrà 18 anni potrà fare quello che vuole. Sarà adulta e quindi potrà andarsene e prendere le sue decisioni, assumendosi le responsabilità delle sue scelte, ma fino ad allora dovrà rispettare le loro scelte e le conseguenze delle sue azioni. La risposta di Erin in realtà sorprende molto i suoi genitori. Dice che è d'accordo con loro perché voleva rompere con Charlie già da un po', ma non sapeva come fare perché stava diventando troppo controllante e possessivo nei suoi confronti. Penny e Terry la confortano e le consigliano di lasciarlo in un luogo pubblico, magari in chiesa in modo da essere al sicuro e protetta, circondata da altre persone. Erin accetta il consiglio e i suoi genitori sono certi che lei avrebbe lasciato Charlie nel giro di pochi giorni. La sera del 29 febbraio Penny e Terry si sdraiano a letto. Sono sollevati e grati, pensano a quanto sono fortunati. Credono infatti che Erin sarebbe presto tornata a essere la ragazzina brillante e vivace che era prima di mettersi con Charlie. Tutto finalmente sembra andare per il meglio. Si scambiano un bacio, si augurano la buonanotte e si addormentano, convinti che il peggio sia passato. Ma alle tre del mattino del primo marzo 2008 la porta della loro camera da letto si spalanca all'improvviso. Terry, ancora mezzo addormentato, sente dei passi e inizialmente pensa che uno dei suoi figli più piccoli, Matthew o Tyler, abbia avuto un incubo. Ma purtroppo le persone che hanno aperto quella porta non sono i suoi figli. Terry se ne rende conto quando sente il rumore di alcuni spari. Si getta verso Penny per tentare di proteggerla ma ormai è troppo tardi. La donna è già stata colpita. Anche Terry viene colpito più volte. Un proiettile lo colpisce alla testa e altri quattro colpiscono il corpo. Cade dal letto e toccando il pavimento perde conoscenza. Poco dopo Terry riprende conoscenza. Sente il freddo del pavimento sotto di sé ma tiene gli occhi chiusi. Sente dei passi avvicinarsi. Qualcuno è in piedi sopra di lui e sta ricaricando la pistola. Terry cerca di respirare il più piano possibile ma è convinto che la sua fine sia ormai inevitabile e spera solo che la cosa sia il più veloce possibile. La persona che stringe la pistola in mano punta l'arma contro Terry e tenta di sparargli di nuovo ma l'arma si inceppa. Così decide di allontanarsi lasciando Terry sul pavimento della sua camera da letto. Terry sente il sangue colargli dagli occhi, dal naso, dalla bocca e dalle orecchie. Prova a muoversi ma il dolore è insopportabile e il suo corpo non risponde. Tuttavia quello che lo terrorizza di più è il rumore dei passi che salgono di corsa le scale. Capisce che stanno andando verso le camere dei suoi figli. Determinato a non arrendersi Terry cerca di afferrare il materasso del letto per tentare di tirarsi su. Quando sente la voce di suo figlio Matthew provenire dal piano superiore. Charlie perché stai facendo questo? Seguito da un grido ancora più disperato. No Charlie no! Poi altri spari risuonano nella casa e Terry crolla di nuovo perdendo conoscenza. Quando si risveglia la casa è avvolta dalle fiamme. L'odore acre del fumo lo colpisce e sa che deve uscire di lì se vuole sopravvivere. Prova di nuovo ad alzarsi con tutte le sue forze. Solo a questo punto riesce a vedere sua moglie per la prima volta dopo l'attacco. Già c'è a letto e anche se Terry sapeva che gli avevano sparato la vista che gli si para davanti è devastante. Solo ora si rende conto che gli avevano anche tagliato la gola così in profondità che sembra quasi decapita. La vista della moglie ridotta in quello stato è straziante ma Terry ahimè sa che non può più fare nulla per lei o per i suoi due figli minori. L'uomo è così disperato che vorrebbe arrendersi e morire in quell'incendio ma l'istinto di sopravvivenza e il desiderio di giustizia lo tengono in vita. Sa che i responsabili di quel massacro senza la sua testimonianza potrebbero passarla liscia e non può permettere che questo accada. Così con una determinazione feroce Terry si aggrappa alla porta della camera e riesce finalmente a sollevarsi. Pur sapendo che probabilmente sarebbe un tentativo inutile prova a salire le scale per cercare di salvare Matthew e Tyler. Vuole provarci. Quando apre la porta della sua camera però si trova davanti un muro di fuoco e fumo. Realizza allora che l'unica via d'uscita è andare in bagno per provare a trascinarsi fuori dalla casa attraverso la finestra. Terry riesce a raggiungere il bagno e a uscire dalla finestra cadendo a terra. Sa bene che la situazione è a dir poco disperata e che l'unica cosa che può fare è trascinarsi fino alla casa dei suoi vicini Tommy ed Ellen Gaston. Sono le 4 e 30 del mattino del primo marzo 2008 quando il centralino del 911 della contea di Reins riceve una chiamata urgente. Un uomo di nome Tommy Gaston informa l'operatore che qualcuno ha sparato al suo vicino Terry Caffi e che è in condizioni terribili. Nonostante tutto Terry è ancora cosciente ma sta sanguinando copiosamente. L'operatore cercando di raccogliere più informazioni chiede a Tommy dove è stato colpito il suo vicino di casa e da quale parte del corpo provenga il sangue. Tommy risponde che non riesce a capirlo perché è completamente ricoperto di sangue. Quella notte l'unico agente in servizio è il vice sceriffo che si precipita a casa della famiglia Caffi, una modesta abitazione immersa in un bosco. Mentre l'ufficiale guida lungo la strada che porta la proprietà si accorge che la casa è completamente avvolta dalle fiamme. È chiaro che sta bruciando da tempo e che chiunque si trovi all'interno non può più essere tratto in salvo perché il tetto di metallo ha iniziato a piegarsi sotto il suo stesso peso a causa del calore intenso. Il vice sceriffo avverte subito la centrale chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco volontari della contea e un'ambulanza. Poi si dirige rapidamente verso la casa di Tommy Gaston, l'uomo che ha chiamato il 911. Quando Tommy apre la porta e vede il vice sceriffo il sollievo è visibile sul suo volto. Proprio dietro di lui sdraiato sul pavimento del soggiorno c'è Terry Caffi in condizioni critiche. È stato colpito cinque volte, una alla testa, due vicino alla spalla destra e due alla schiena. Il viso e la parte superiore del corpo sono ricoperti di sangue rappreso. Nonostante sia una notte fredda il 41enne indossa solo una maglietta, i pantaloni del pigiama e un calzino. Senza avere neppure le scarpe ai piedi è riuscito a trascinarsi per 500 metri dalla sua casa a quella dei Gaston impiegando quasi un'ora. Durante il tragitto era anche caduto in un ruscello rischiando di annegare ma non si era arreso. Era riuscito a raggiungere la casa del suo vicino barcollando mentre alle sue spalle la sua casa stava andando a fuoco con fiamme che si stavano intensificando sempre di più. Quando arriva l'ambulanza Terry viene immediatamente trasportato ad urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono davvero critiche e gli agenti sanno che Terry potrebbe morire da un momento all'altro. Per questo motivo iniziano a fargli quante più domande possibili già durante il tragitto verso l'ospedale. Terry riesce a dire al poliziotto che sa chi è l'autore dell'attacco. Ha sentito suo figlio minore pronunciare il suo nome durante l'assalto Charlie Wilkinson il fidanzato diciottenne di sua figlia. Terry spiega anche agli agenti che lui e la moglie avevano proibito alla figlia di continuare a vederlo e che crede che sia questa la ragione per cui il ragazzo era entrato in casa loro e aveva cercato di ucciderli tutti. Quella in cui vivono i caffi è una piccola comunità. Il vice sceriffo quindi sa bene chi sia Charlie. Chiama i rinforzi e si mette sulle tracce del ragazzo. Non ci vuole molto per trovarlo. Sa dove si trova la casa container dove vive Charlie e quando bussa alla porta gli apre un giovane di nome Ed, ignaro di ciò che sta succedendo. Ha l'aria sonnata e quando l'ufficiale gli chiede se Charlie è in casa gli risponde che non ne ha idea ma gli permette di entrare per controllare. Cammina lungo il corridoio e quando arriva a una porta che in realtà è solo una coperta appesa su un telaio la sposta ed entra. Charlie è lì sdraiato sul materasso. È sveglio addosso un paio di jeans e c'è una pistola a terra di fianco a lui. L'ufficiale comunica a Charlie che la famiglia Caffi è stata assassinata ma Charlie non dice niente e si limita ad abbassare la testa in silenzio. Viene arrestato e mentre un altro ufficiale entra nella stanza per prendere dei vestiti da far indossare a Charlie una maglietta e un paio di stivali si accorge che sono sporchi di sangue. Nel frattempo i vigili del fuoco lottano per ore per cercare di domare l'incendio ma la baita è ormai bruciata fino alle fondamenta completamente distrutta. Tra le macerie vengono rinvenuti tre corpi quello di Penny di 38 anni, Matthew di 13 anni e Tyler di soli otto anni. Come ho già detto quella è una piccola comunità e tutti conoscono Charlie e sanno chi frequenta di solito. Non ci vuole molto perché la polizia effettui altri arresti. Prima ammanettano e portano in centrale il ventenne Charles Wade un amico di Charlie fermato mentre guidava l'auto della sua ragazza Bobby Johnson di 18 anni. Anche lei viene arrestata poco dopo fuori dal ristorante dove lavora. Charles, Charlie e Bobby vengono portati in centrale per essere interrogati. Inizialmente negano ogni coinvolgimento in questo caso ma i poliziotti sono certi della loro colpevolezza quindi continuano a pressarli fino a quando cedono e iniziano a confessare. Nel frattempo la polizia ottiene un mandato di perquisizione per la casa container in cui Charlie è stato arrestato. Non appena entrano gli agenti notano una borsa mimetica nel soggiorno. La aprono e trovano al suo interno la patente di Erin Caffey che a questo punto si ritiene sia in pericolo. Proseguendo nella perquisizione arrivano in una stanza buia con una coperta che copre la finestra. La spostano e la luce rivela una camera in completo disordine. Sul pavimento trovano un proiettile, una scatola di munizioni e un preservativo usato. L'ufficiale si avvicina all'armadio e nota una coperta ammucchiata lì vicino. Insospettito la sposta e vede dei capelli biondi. Inizialmente pensa sia una bambola ma poi nota due occhi che lo fissano. Quindi fa qualche passo indietro, estrae la pistola e chiede chi sei? Una voce gli risponde Erin. La gente la osserva con attenzione e si rende conto che è la stessa ragazza della foto sulla patente trovata nella borsa mimetica in soggiorno. Erin era quindi nascosta sotto la coperta, rannicchiata sul pavimento, visibilmente sotto shock. L'ufficiale le chiede cosa sia successo, se stia bene e cosa ci faccia lì. In effetti Erin lì, come ci è arrivata? La ragazza sembra stordita e confusa, dice di non sapere dove si trovi, così l'ufficiale le domanda di nuovo. Cos'è successo? Erin dice solo una parola. Fuoco. Viene immediatamente portata in ospedale e viene interrogata nella sala di traumatologia. Appare ancora molto confusa, così tanto che non riesce neanche a ricordare la sua età, continua a ripetere di avere 14 anni. Ma sappiamo benissimo che non è vero. Erin ha 16 anni. Le viene dunque fatta una valutazione medica completa, incluso un test tossicologico che risulta negativo. Erin è completamente sobria, quindi probabilmente sta fingendo. Fornisce una versione dei fatti poco coerente. Racconta che stava dormendo quando all'improvviso si è svegliata in una casa invasa dal fumo che stava andando a fuoco. Dice di essersi resa conto che nella sua stanza c'erano due uomini vestiti tutti di nero armati con delle spade da samurai. Afferma che quella è l'ultima cosa che ricorda, poi si è svegliata nella casa dove è stata trovata. Dice che le hanno dato da bere qualcosa, ma non ricorda esattamente cosa. L'ultima frase che pronuncia è mi stavano dando la caccia. Erin a questo punto è considerata una vittima e le viene permesso di andarsene dall'ospedale. I poliziotti, profondamente dispiaciuti per lei, si offrono di accompagnarla insieme ai suoi nonni all'East Texas Medical Center, dove suo padre è ricoverato. Decidono di scortarla e le dicono che è una ragazzina davvero tosta. Le fanno i complimenti. I poliziotti fanno strada con la loro auto, seguiti dal veicolo dei nonni di Erin, con la ragazza a bordo, diretti all'ospedale per far visita a Terry. Durante il tragitto, però, ecco che hanno una sorpresa. I poliziotti vengono contattati via radio dai loro colleghi, i quali li informano che la ragazzina che stanno scortando è in realtà una sospettata. Ti viene chiesto di prendere in custodia Erin, poiché, durante l'interrogatorio, Charlie e gli altri ragazzi arrestati hanno dichiarato che Erin è coinvolta negli omicidi. La polizia quindi accosta e lo stesso fanno i nonni di Erin. Gli agenti escono dalla macchina e si avvicinano al veicolo dei nonni di Erin, guardano la giovane e con un certo disagio, le dicono che devono prendere in custodia anche lei in relazione agli omicidi di sua madre e dei suoi fratelli minori. Le chiedono di scendere dall'auto, ma sua nonna perde completamente la testa e inizia a ripetere, ti prego, dimmi che non centri niente, per favore, dimmi che non hai avuto nulla a che fare con tutto questo. Erin in effetti nega qualsiasi coinvolgimento e rassicura la nonna, ma viene comunque ammanetata e portata alla centrale dalla polizia. Ma quindi qual è a questo punto la versione di Charlie e degli altri ragazzi arrestati? Charlie sostiene che secondo Erin uccidere i suoi genitori era l'unica soluzione per riuscire a stare insieme. Era lei a volerlo, ne parlava incessantemente e tirava fuori l'argomento almeno tre volte al giorno, tutti i giorni. Non erano affatti riservati al riguardo, infatti ne discutevano spesso anche a scuola questi geniacci. Charlie aveva detto ai suoi amici che intendeva uccidere la famiglia Caffi. I due ragazzi ne parlavano anche quando erano in mezzo alla gente e infatti alcune persone li avevano sentiti forte e chiaro. Charlie però sostiene di non aver mai avuto davvero intenzione di uccidere la famiglia della sua ragazza. Lui in realtà avrebbe voluto semplicemente scappare o addirittura mettere incinta Erin sperando che i suoi genitori di fronte al fatto compiuto non avrebbero avuto altra scelta che accettare la relazione. Tuttavia Erin gli aveva in un certo senso fatto l'ombrello, gli aveva detto che quella non era un'opzione praticabile, era troppo giovane per avere un bambino. Finché i suoi genitori fossero rimasti in vita ci sarebbero sempre stati dei problemi e non sarebbero mai riusciti a stare insieme. Charlie racconta che il giorno prima degli omicidi Erin lo aveva chiamato sconvolta in lacrime perché i suoi genitori volevano che ponesse fine alla storia con lui. Lui gli aveva detto scappiamo e basta andiamo via solo noi due ma Erin gli aveva risposto no i miei genitori devono morire. Charlie alla fine aveva accettato quella decisione dicendo che lo avrebbe fatto solo perché è innamorato di lei. A lune e trenta di sabato notte il piano era stato messo in atto. Charlie e il suo amico Charles Wade erano saliti sull'auto della fidanzata di quest'ultimo, Bobby Johnson. A quanto pare Bobby non era a conoscenza del piano omicida, non sapeva cosa sarebbe successo ma voleva unirsi ai ragazzi così anche lei era salita in macchina e tutti insieme si erano diretti a casa dei caffi. Charles Wade però sapeva bene cosa stava per accadere e aveva accettato di aiutare Charlie con gli omicidi in cambio di 2000 dollari che Charlie avrebbe dovuto recuperare dalla cassetta di sicurezza della famiglia caffi grazie alle informazioni che Erin gli aveva fornito inclusa la combinazione per aprirla. Quando erano arrivati alla casa dei caffi il loro cane aveva iniziato ad abbaiare. Erin lo aveva sentito dall'interno della casa e aveva chiamato Charlie per dirgli di tornare dopo un'ora, si sarebbe occupata lei di tranquillizzare l'animale. Questa telefonata corrobora la versione di Charlie, la polizia controllerà i registri delle chiamate e confermerà che Erin aveva effettivamente chiamato Charlie quella notte. Inoltre Terry afferma di ricordare che il suo cane aveva abbaiato molto proprio un paio d'ore prima di essere svegliato dagli spari. In quel momento non se ne era preoccupato più di tanto, aveva urlato al cane di smetterla e si era riaddormentato. Un'ora dopo Charlie e i suoi amici erano tornati alla proprietà dei caffi e avevano fatto salire in macchina Erin che li stava aspettando alla fine del vialetto. Avevano fatto un giro in macchina mentre discutevano il da farsi. Charlie, anche in quel momento, aveva chiesto a Erin più volte se fosse sicura di volerlo fare, proponendole ancora una volta di fuggire con lui. Ma Erin continuava rispondergli che sì, voleva farlo. Questa versione dei fatti non è raccontata solo da Charlie, ma anche da Bobby Johnson, la fidanzata di Charles Way. La ragazza conferma che mentre era seduta in macchina sentiva Charlie ripetere in continuazione, sei sicura di volerlo fare? E Erin che gli rispondeva, se mi ami, lo farai. A questo punto Bobby aveva capito cosa stesse per accadere e avrebbe voluto andarsene, ma il suo ragazzo gli aveva detto che ormai era troppo coinvolta e sarebbe comunque finita anche lei nei guai se avesse provato a tirarsi indietro. Erano poi tornati a casa dei caffi dopo aver deciso che Charlie avrebbe ucciso Terry e Penny, mentre Charles sarebbe occupato dei fratelli minori di Erin. In realtà Charlie inizialmente non voleva eliminare i fratelli di Erin, ma Charles lo aveva convinto dicendo che non potevano permettersi di lasciare dei testimoni. Ne avevano parlato anche con Erin e lei aveva detto ai due ragazzi che non le importava nulla se ritenevano opportuno uccidere i suoi fratelli, potevano farlo. Inoltre non voleva che finissero in affidamento. Dopodiché i due ragazzi erano scesi dall'auto e si erano avviati verso la casa, mentre Erin e Bobby erano rimasti in macchina ad aspettare. Charlie e Charles erano entrati in casa attraverso una porta che Erin aveva lasciato aperta, dirigendosi direttamente verso la camera da letto dove Terry e Penny stavano dormendo. Una volta dentro avevano sparato a entrambi il più velocemente possibile finché la pistola non si era inceppata. Dopo averla sistemata avevano sparato un altro paio di colpi e avevano tagliato a Penny la gola con la spada, quasi fino a dei cap... Erano convinti che Terry fosse morto dato che gli avevano sparato in faccia e per questo motivo non avevano ritenuto necessario tagliare la gola anche a lui. Nel frattempo Matthew e Tyler che dormivano nelle loro stanze erano stati svegliati dagli spari. Spaventati si erano rifugiati nella stanza di Erin. Charlie e Charles dopo aver lasciato la camera da letto di Penny e Terry si erano diretti al piano superiore per raggiungere la stanza di Matthew e Tyler. Charlie però era riluttante e continuava ad affermare che non l'avrebbe fatto, non voleva uccidere dei bambini. Charles però infastidito aveva iniziato a perdere la pazienza e aveva detto a Charlie che se non lo avesse aiutato se ne sarebbe andato lasciandolo lì nella casa da solo e Charlie a questo punto non poteva più tirarsi indietro. Charles invece aveva deciso di tornare al piano inferiore. Charlie che conosceva i due fratellini di Erin aveva iniziato a parlargli per tranquillizzarli dicendogli di uscire dalla stanza senza preoccuparsi. Matthew e Tyler riconoscendo la sua voce si erano fidati ed erano usciti nonostante la paura. Charlie aveva notato quanto fossero terrorizzati, era imbarazzato, non riusciva nemmeno a guardarli in faccia. Matthew, il più grande, aveva 13 anni quindi era abbastanza grande per capire che c'era qualcosa che non andava. Certo conosceva Charlie e non era strano vederlo in casa loro ma si era reso conto che la situazione era anomala. In preda al panico aveva iniziato a litigare con Charlie dandogli dei calci e durante il tafferuglio era finito vicino alla ringhiera. In quel momento Charles che era ancora al piano inferiore aveva alzato lo sguardo, mirato con la pistola e sparato colpendo il bambino in faccia. Matthew era crollato a terra privo di vita senza più muoversi. Tyler spaventato a morte si era nascosto in un armadio. Charles risalito al piano superiore si era unito a Charlie e insieme avevano aperto l'anta dell'armadio infilzando a turno il piccolo Tyler a morte con le loro spade da samurai. Durante la confessione Charlie trova estremamente difficile raccontare l'omicidio dei due fratelli minori di Erin. Scoppia in lacrime più e più volte ripetendo che non capiva perché Tyler dovesse morire e soprattutto proprio in quel modo così brutale. Afferma che era stato Charles a sferrare il primo colpo ma ammette di aver affondato la lama anche lui almeno una volta. L'omicidio di Matthew e Tyler è la parte più straziante per Terry. Quando l'uomo verrà a conoscenza del fatto che anche sua figlia Erin è coinvolta negli omicidi per lui sarà un completo shock ma ciò che lo tormenta di più è la morte di Tyler. Non riesce a comprendere perché l'abbiano ucciso con delle spade quando avevano a disposizione una pistola. Il senso di colpa per non essere riuscito a salvarlo lo consuma. Quando Charlie e Charles erano sicuri che fossero tutti morti avevano saccheggiato la casa prendendo i gioielli e del dinaro da un portafoglio e dalla cassetta di sicurezza nella stanza di Terry e Penny. Avevano poi chiamato le ragazze che erano quindi entrate in casa e avevano usato diversi accendini e un accelerante per incendiare i mobili, i letti e qualsiasi cosa potesse prendere fuoco. Dalle fonti sembra che Charles e Charlie siano riusciti a rubare solo 375 dollari quindi evidentemente nella cassetta di sicurezza non c'erano 2000 dollari ma molti di meno. I ragazzi affermano che dopo essere entrata in casa Erin era visibilmente entusiasta. Aveva detto di essere contenta che fosse finalmente finita e secondo il racconto di Bobby la ragazza si era voluta assicurare che tutti in casa fossero morti per davvero. Bobby spiega che Erin era così felice da sembrare una bambina la mattina di Natale e Charles durante la confessione riferisce che Erin aveva esclamato una volta entrata in casa porca miseria è fantastico. Erano poi usciti dalla casa e avevano guidato in giro per un po' percorrendo delle strade secondarie per schiarirsi le idee. Alla fine Charlie ed Erin erano stati accompagnati alla casa container dove abitava il ragazzo. Avevano consumato un rapporto intimo e la mattina seguente erano stati entrambi arrestati prima Charlie poi Erin. Per ognuno dei ragazzi arrestati viene fissata una cauzione di 1,5 milioni di dollari. Nel frattempo Terry è ancora in ospedale si sta riprendendo dalle moltiplici ferite di arma da fuoco ma soprattutto sta affrontando un trauma devastante. La sua famiglia è stata uccisa. Terry è sul punto di arrendersi incapace di immaginare una vita senza la sua famiglia ma poi scopre che sua figlia Erin è viva e questo gli dà una speranza qualcosa per cui vivere ma questa speranza viene presto infranta. Dopo aver appreso che Erin è viva sua sorella va a trovarlo in ospedale e lo informa che la sua unica figlia sopravvissuta è in stato di arresto in relazione agli omicidi. Terry in seguito dirà riferendosi a quel momento ricordo di essermi alzato dal mio letto d'ospedale e di aver urlato no non può essere non è Erin non è Erin. L'uomo a questo punto ha bisogno che la polizia gli spieghi nel dettaglio in che modo sua figlia è coinvolta. Così per esaudire la sua richiesta un investigatore entra nella sua camera d'ospedale e si siede davanti a lui. Terry chiede per prima cosa come sta sua figlia e il detective lo rassicura dicendo che sua figlia sta bene. Poi Terry dice al detective che vuole sapere cosa sta succedendo perché nessuno gli ha detto nulla e non gli permettono nemmeno di guardare la tv. Vuole sapere quanto sua figlia sia effettivamente coinvolta. Il detective gli risponde con queste precise parole. Il suo coinvolgimento è parecchio grande e importante. La reazione della comunità a questi omicidi è molto intensa. La famiglia Caffi era molto amata e profondamente coinvolta nella comunità e nella chiesa. Gli abitanti abituati a una vita semplice si ritrovano improvvisamente sotto i riflettori dei notiziari locali e nazionali un'attenzione che faticano a gestire. Il funerale della famiglia Caffi si tiene una domenica mattina presso la chiesa Miracle of Faith. È un evento molto sentito a cui partecipano circa 80 persone. Il pastore visibilmente commosso fatica a mantenere la compostezza durante la celebrazione della messa. Ovviamente la persona che trova più difficoltà ad andare avanti dopo questi tradici eventi è Terry. La sua famiglia non c'è più. Sua figlia è in prigione. Ha dovuto organizzare il funerale per i suoi cari. Ha tentato di andare avanti con la sua vita. Ha vissuto per un certo periodo con sua sorella ma poi la depressione ha preso il sopravvento su di lui. Il pensiero di porre fine alla sua vita lo accarezza più volte. Prende in considerazione anche l'idea di spararsi dove un tempo sorgeva la sua casa ma conclude che c'era stato già troppo spargimento di sangue. Poi pensa di prendere delle pillole o di soffocarsi con i gas di scarico della sua auto. Il suo dolore è immenso carico di amarezza e di rabbia. Vorrebbe vendicarsi uccidendo tutti quelli coinvolti tranne sua figlia Erin. È convinto che la rabbia e il dolore lo distruggeranno ma poi si rende conto che lasciandosi consumare da questi sentimenti non avrebbe onorato la memoria della sua famiglia. Così capisce che la cosa migliore per lui è lavorare sul perdono. Per mesi aveva pregato costantemente ma la rabbia contro Dio lo stava divorando tanto che un giorno era andato nella sua vecchia proprietà dove la casa era ormai ridotta in cenere. Aveva guardato il cielo e aveva iniziato a inveire contro il Signore esclamando per chi hai preso la mia famiglia e non me? In quel momento aveva visto un pezzo di carta attaccata a un albero. Una pagina tratta dal libro intitolato Blind Sight. Blind Sight è un libro che racconta la storia di un uomo che ha perso la moglie e i suoi figli in un incidente d'auto. La pagina era bruciata lungo i bordi ma il resto era ancora intatto e le parole che gli erano balzate agli occhi erano le seguenti. Non riuscivo a capire perché hai preso la mia famiglia e mi hai lasciato indietro a lottare senza di loro. Potrei non capire mai del tutto questa parte ma so che sei tu ad avere il controllo. Terry da quel momento in poi trova la forza di andare avanti in qualche modo. Afferma che ci sono dei giorni più difficili di altri. Spesso passa intere giornate a piangere ma quel tempo riesce a trovare davvero il tanto agognato perdono. La mentalità di Terry giocherà un ruolo importante nel processo. Passiamo ora a parlare della parte legale di questo caso. Erin è minorenne al momento dell'arresto. Non può quindi essere subito interrogata. Deve prima comparire davanti a un giudice di pace. Erin scrive una dichiarazione su quello che è successo quella notte ma nega tutto esattamente come aveva fatto in ospedale. Sostiene fermamente di non avere nulla a che fare con quello che è successo alla sua famiglia. suo padre sembra crederle perché chiede alla corte se Erin può tornare a casa con lui piuttosto che stare in prigione in attesa del processo. Il tribunale però non glielo permette. La questione più urgente in realtà è un'altra. Devono decidere se processare Erin come un'adulta o come una minorenne. Viene stabilito che verrà processata come un'adulta e non è facile per il pubblico ministero spiegare a Terry come andranno le cose. Perché questo significa che se Terry verrà condannata rimarrà in prigione a vita senza la possibilità di accedere alla libertà condizionale. E a dirla tutta per inciso è anche fortunata perché se fosse stata già adulta anagraficamente avrebbe rischiato di essere condannata alla pena di morte. Le concedono questa possibilità perché ha solo 16 anni. Il pubblico ministero mostra a Terry tutte le prove che dimostrano che Erin volesse la morte di sua madre e dei suoi fratelli. Gli fa vedere i tabulati telefonici, le foto della cassetta di sicurezza aperta e grazie alla combinazione che Erin aveva fornito e le dichiarazioni degli amici che affermavano che Erin desiderasse la morte dei suoi genitori. Rivela inoltre che dopo gli omicidi Charlie ed Erin avevano avuto un rapporto intimo. E per Terry tutto ciò è davvero insopportabile. Scoppia a piangere e si chiede come abbia potuto non notare nulla. Come abbia potuto non rendersi conto che la sua unica figlia femmina stesse progettando qualcosa di così scellerato. Terry nonostante tutto decide di rimanere vicino a sua figlia e la va a trovare in prigione due volte alla settimana. All'inizio questi incontri sono imbarazzanti per Terry. Poiché non può farle nessuna delle domande che gli ronzano in testa la settimana. L'avvocato gli aveva avvertiti che tutte le conversazioni in carcere sono registrate. Di conseguenza Terry ed Erin si trovano obbligati a parlare del più e del meno facendo discorsi banali. Anche se questi incontri sono molto dolorosi per lui Terry sente di dover essere presente per sua figlia. Non affrontano mai questioni serie ma un giorno Terry le pone una domanda che gli sta particolarmente a cuore. Le chiede se lui e sua madre siano stati dei buoni genitori. Erin in lacrime risponde che non avrebbe potuto desiderare genitori migliori. I tre imputati vengono accusati di tre capi di imputazione per omicidio capitale riguardanti la morte di Penny, Matthew e Tyler. Charlie riceve un'ulteriore accusa per aver tentato di fuggire dalla prigione scavando un buco nel muro della sua cella. Charles, Charlie e Bobby avevano confessato ma Erin continua a negare tutto. Contro di lei però c'è una prova in particolare che è schiacciante ovvero i tabulati telefonici. Il pubblico ministero afferma che se nessuno degli altri imputati avesse testimoniato contro Erin anche solo i registri telefonici sarebbero stati sufficienti per ottenere una condanna. La nota degli omicidi la ragazza ha chiamato Charlie sei volte dall'interno della casa di famiglia tra le 23.46 e mezzanotte 48 e poi altre sette volte tra l'1.22 e l'1.58. Gli orari delle telefonate coincidono perfettamente con il resoconto di Charlie. Ci sono anche numerose testimonianze di diversi studenti che affermano di aver sentito Erin parlare dell'omicidio della sua famiglia. Un ragazzo ad esempio riferisce di averla sentita a dire a scuola che avrebbe dovuto uccidere la sua famiglia così lei e Charlie avrebbero potuto stare insieme. Altri amici di Charlie confermano che erano a conoscenza del loro piano di uccidere la famiglia Caffey sebbene lui in realtà volesse solo scappare con Erin. Sorprendentemente anche uno degli ex fidanzati di Erin testimonia durante il processo. Si chiama Michael e la ragazza era uscita con lui diversi mesi prima di conoscere Charlie. Michael spiega che stavano uscendo insieme e che erano molto presi l'una dall'altra ma si erano messi nei guai perché erano un po' troppo vivaci quando frequentavano la chiesa. Durante questo periodo Erin gli aveva confessato di voler ingaggiare qualcuno per uccidere i suoi genitori perché ogni volta che si fidanzava con qualcuno che le piaceva davvero i suoi genitori la obbligavano a lasciarlo. Terry inizialmente insiste affinché lo stato applichi la pena di morte sia per Charlie che per Charles. È davvero estremamente arrabbiato in particolare con Charlie perché aveva permesso a questo ragazzo di entrare in casa sua, di celare insieme alla sua famiglia. Come ha potuto trovare il coraggio di fare una cosa del genere? Tuttavia successivamente mentre lavora sul perdono e prega Dio cercando di capire cosa avrebbe dovuto fare arriva alla conclusione che è importante dare a questi ragazzi l'opportunità di provare il rimorso. Scrive dunque una lettera al procuratore distrettuale in cui dichiara voglio che si sveglino ogni giorno e pensino a ciò che hanno fatto e spero che un giorno troveranno del rimorso nei loro cuori. Voglio che le persone traggano del bene da tutto questo. La comunità è scioccata dalla decisione di Terry di aiutare questi ragazzi. Quando gli viene chiesto come si è riuscito ad arrivare a questa conclusione lui risponde che uccidere Charlie, Charles e Bobby non gli riporterebbe indietro la sua famiglia. Grazie alla lettera di Terry a Charles e a Charlie viene offerto un patteggiamento. Gli avvocati dei ragazzi sono sollevati consapevoli che senza l'intervento di Terry probabilmente i ragazzi avrebbero ricevuto la pena capitale. Entrambi i ragazzi si dichiarano colpevoli e durante l'udienza della sentenza Terry si alza e si rivolge direttamente a entrambi. Nella sua dichiarazione a Charlie dice Charlie Wilkinson oggi voglio dirti che ti perdono non tanto per te ma per me stesso. Mi rifiuto di diventare un vecchio amareggiato se voglio guarire e andare avanti. Devo trovare il perdono nel mio cuore e questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare perché mi hai portato via così tanto. Sia Charlie Wilkinson che Charles Wade vengono condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La fidanzata di Charles, Bobby, che se ricordate non aveva idea di cosa stesse succedendo però quando l'ha scoperto e non ha avuto il coraggio di tirarsi indietro viene condannata a 40 anni di prigione con la possibilità di ottenere la libertà condizionale dopo 20 anni. Anche Erin accetta il patteggiamento, si dichiara colpevole e viene condannata a due ergastoli consecutivi da scontare contemporaneamente più altri 25 anni. Questo significa che se manterrà una buona condotta avrà diritto alla libertà condizionale all'età di 59 anni. Erin continua a negare di essere la mente dietro agli omicidi sostenendo di non averli pianificati lei. Il consulente per la salute mentale della difesa per valutare Erin durante la sua udienza aveva inizialmente affermato di credere al suo pentimento. Riteneva che fosse triste e spaventata e sembrava che non volesse realmente che accadesse tutto ciò. Secondo lui era stato Charlie a pianificare gli omicidi cercando poi di incastrarla dopo che lei lo aveva lasciato. Il professionista afferma anche che Erin sembra totalmente sincera e genuina tanto che a volte si allontanava dalle sedute in lacrime tormentata dal senso di colpa. Col tempo tuttavia il consulente aveva approfondito il caso e si era reso conto che Erin lo stava manipolando durante le sedute. Ha dichiarato di aver avuto a che fare con diversi bugiardi ma che Erin era indubbiamente la più abile. Ha inoltre espresso preoccupazione per la sua pericolosità sottolineando che ciò che la disturbava di più era il fatto di non essere riuscito a comprendere perché avesse fatto uccidere la sua famiglia. Nonostante fosse apparentemente una brava ragazza che andava al campo estivo della chiesa e che non avrebbe mai espresso un vero risentimento verso la sua famiglia Erin aveva comunque pianificato i loro omicidi. Concludo questa parte leggendovi una sua citazione. Non ho mai incontrato qualcuno di così pericoloso come Erin. La ragazza partecipa anche a un'intervista per un programma chiamato Killer Woman condotto da Pierce Morgan. Dopo averla conosciuta e intervistata il conduttore afferma che Erin è la donna più malvagia che abbia mai incontrato. Terry crede a ciò che dice sua figlia Erin la quale sostiene che sia stato Charlie a pianificare e portare a termine gli omicidi con l'aiuto di Charles. Erin afferma che in realtà stava cercando di fermare Charlie. Tutte quelle telefonate che gli ha fatto la notte del delitto erano tentativi di convincerlo ad esistere. Erin dice che era lei a voler scappare e inizialmente Charlie era d'accordo ma poi aveva cambiato idea decidendo di uccidere la sua famiglia. Terry crede che sua figlia sia coinvolta in una certa misura ma non riesce a credere che sia la mente dietro al piano omicida. Conosce sua figlia e non la ritiene capace di fare o di pensare una cosa del genere. La considera semplicemente una ragazzina di 16 anni che si è ritrovata coinvolta con un fidanzato più grande e manipolatore. Ha quindi deciso di perdonarla per ricostruire il loro rapporto. Le persone della comunità sono arrabbiate e sconvolte per la decisione di Terry di rimanere vicino a Erin e sembrano sorprese dal suo rapido miglioramento emotivo. Anche Terry partecipa a diversi programmi televisivi suscitando reazioni contrastanti. Tuttavia io credo che sia troppo facile giudicare da fuori. Secondo me è necessario ricordare bene cosa ha dovuto superare Terry. In una sola notte ha perso sua moglie e due dei suoi figli. Non poteva perdere anche Erin, non l'avrebbe sopportato e questo Terry l'ha spiegato più e più volte. Infatti durante un'intervista l'uomo dichiara ho una vita felice ora, le persone possono dire quello che vogliono, ma finché non cammineranno con le mie stesse scarpe, finché non saranno nei miei panni, non hanno idea di cosa farebbero al posto mio. Terry è davvero riuscito ad andare avanti con la sua vita, tanto che si è risposato per ben due volte. C'è da dire che la prima volta il matrimonio è terminato con un divorzio, ma Terry afferma di aver cercato di voltare pagina troppo presto. Infatti si era risposato a meno di un anno dagli omicidi nella chiesa in cui si erano svolti i funerali di sua moglie e dei suoi figli minori. Successivamente si è risposato, ha avuto un altro figlio maschio e ha adottato i tre figli della sua nuova moglie. Nella sua nuova casa Terry conserva delle foto di Penny, la sua prima moglie, di Matthew e Tyler e anche una foto di Erin con la divisa la carcerata. Dice che pensa spesso alla sua vecchia famiglia, ma non va a visitare spesso le loro tombe. È troppo difficile e doloroso per lui. Non riesce nemmeno a guidare lungo la strada in cui un tempo si trovava la sua casa. Subito dopo gli omicidi aveva persino deciso di dare via il suo cane perché prendersene cura era troppo doloroso per lui. A tal proposito ho trovato una foto che onestamente mi ha spezzato il cuore. C'è il cane della famiglia Caffi sdraiato davanti ai resti della casa con una dinascalia che accompagna la foto che dice sul vasto appezzamento boscoso della famiglia Caffi il labrador nero di famiglia ha atteso in vano tra le ceneri della casa incendiata il ritorno dei suoi proprietari. È una scena davvero molto triste ma i cani sono noti per la loro fedeltà incrollabile. Molti hanno aspettato il ritorno dei loro padroni per anni e anni. Ricordo ancora il film a Cico che penso sia tratto da una storia vera e ho pianto tutte le mie lacrime e se non l'avete mai visto ve lo consiglio perché credo sia la dimostrazione più grande di quanto un cane possa essere fedele al suo padrone fino alla fine dei suoi giorni. Terry ancora oggi viene invitato nelle chiese e nelle scuole per raccontare la sua storia tramite il suo ministero che si chiama Across America. Terry afferma che inizialmente è stato difficile per lui raccontare pubblicamente la sua storia ma ripeterla lo ha aiutato a elaborarla. Sa che se avesse represso i suoi sentimenti avrebbe finito per covare dentro di sé tantissima rabbia risentimento e depressione. Terry vede ancora sua figlia Erin una volta al mese recandosi nel carcere di massima sicurezza in cui Erin è rinchiusa per farle visita. Terry continua a far visita a sua figlia che ancora oggi nega di essere stata la mente dietro gli omicidi. Non riesco a immaginare come si possa essere sentito il padre di Erin in tribunale dopo aver scoperto che sua figlia mesi prima di conoscere Charlie aveva già parlato con un altro ragazzo dell'idea di uccidere la propria famiglia. Questo caso è così triste soprattutto perché Erin aveva davvero una bella vita, una famiglia che l'amava e che voleva proteggerla, una macchina, un lavoro, un fidanzato eppure non riusciva a essere soddisfatta. Alcune cose sembrano così importanti a 16 anni in realtà non lo sono affatto ma lo si capisce troppo tardi. Spero che Erin oggi ne sia consapevole. Terry è chiaro ama profondamente sua figlia il suo amore come genitore è davvero incondizionato ma attenzione ciò non significa che lui approvi i suoi crimini ci mancherebbe altro. Terry ha sicuramente combattuto a lungo e ha dovuto fare i conti con le sue emozioni contrastanti ma alla fine resta un padre. Un padre che non riesce ad abbandonare l'unica figlia rimasta in vita anche se ha fatto qualcosa di così orribile. L'unico e il solo movente di Erin sembra essere stato il desiderio di libertà. Voleva essere libera di frequentare chi desiderava senza che i suoi si mettessero in mezzo. E onestamente trovo sia tragico un movente simile perché le sarebbe bastato aspettare di compiere 18 anni. Anche sua madre gli aveva detto che da maggiorenne avrebbe potuto prendere le sue decisioni e assumersi le conseguenze delle sue scelte. Ora in conclusione del video vi pongo una domanda. Credete che sia stata davvero Erin la mente dietro a questo piano? È stata lei la forza attrainante che ha portato altri due ragazzi e una ragazza a rovinarsi completamente la vita? E pensate che la condanna di Bobby a 40 anni sia giusta o voi sareste stati più clementi? Vi ringrazio per aver ascoltato questo caso e ovviamente sono curiosa di leggere tutte le vostre opinioni. Vi invito quindi a commentare qui sotto e scrivetemi cosa ne pensate di questo caso e le sensazioni che avete provato mentre ve lo raccontavo. Sono sempre molto curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni e le vostre idee quindi non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendete cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!